La Bibbia Crescente L'amore di Marcellin La Bibbia Crescente La Bibbia Crescente La Bibbia Crescente Oggi sono due da circa l'heure, sono Marcellin, sono Pieter e sono Erasmus, sono martori. Sono Marcellin, in appassionato dalla basilica romana e sono Pieter in exorcista, vivevano in Roma di il tempo che Diocleti perseguivano la sondra basilica. La tafra data che so impiede dimostrava in viaggi e scegliere i nostri esperti, vi l'antà vello fiume talo iso che i demoni s'antuflau in i pagans di Cisar, pià, e menà so impiede a tirare l'estate alta di imperatur. L'eo a eselva i nostri fiers e i nostri per giùn e fermaos vitt fermes cadenni. Las frides e las gasliggiades a so impiede soffriu con gronda paciencia. Indì vengi in discurs col maestro guardià Artemi che aveva una figlia mal spiltata. Quell'am permette di davantarsi giufnall, se vengi entrass la forza divina da se far libres da quell'esca dainas e se presentar Ravonel in sia casa e liberarla sia figlia di i demoni. So impiede accepta la proposta. Artemi s'arrenda tir sia donna ed i plai imbefes. Im per giùnirli già us compliris cadennas am permette di venire questa sera cautir nus per scacciare i demoni ad nostra figlia. Inca l'eo lascia per girar dina dobbla guardia. Si a donna candida teneva d'Anton quai perceciai, pu saiva, perciai, l'u fossi quai invermus a men, che il vero Dio segi quelles dils cristians e bocanias Jupiter. In quei regioni esplonti so impiede ed entra in alf con un crucifix entamau. «Homis tu us hampi l'autema e curdai an genoios, cao comparer alla figlia Paulina e se fiere diù avon son Pieter. Con altavus han els confessau Iesus Christus per ver Dio ed in quei moment ha il demoni steviu unti. Son Pieter lauda la misericordia divina e va per il spirituale Son Marcelin, per ciò instruir e battagliar els tots insieme. Semelio in taman, fò vener els autors per juniors, tras la miracola di Son Pieter veni libres de las cadainas e se chau battagliar. A xia ha artemi cinca mon di l'imperatur, poca se viu manar els per juniors avon il tribunal, per ciò i tot s'fòven ne veni, da no Son Pieter i Marcelin. La greta de Serevenus ai sta desgur jaibla. Ell ai bastunar artemi e Marcelin emetter els em de per saj en per jun, l'idiai estandi ora sinc calges da glas. Er a Son Pieter ai veniu ser en taus e fermaus d'enter ceb zen. La noc a jaunga d'il senja compariu za Pieter i Marcelin, rot-l'urcad-eines aviat-la per juni, emenau ells en casa d'artemi nu que els autors com Martí steven en oració. En greta l'eservenu sinc quali s'cavacar artemi e s'ertrar dona e filla, vives en in fos. Marcelin i Pieter, en 10 suent, era veni s'cavacar, circa in ura na vendil marcau, en in uaul e quae entornil zons traiacien. Iliu astiu da quera, festivesse erasca ots Sonierasmus, o est e patriarch de Antioquia. Sonierasmus fobe miciaus de la perseguetciun e fugius en indesirt sperin culm Libana. Leu aizel restau siatons, elu ha el cil atmoniu el de tornar ad Antioquia e perdagar il pleita dio. Dioclecian, que s'esproava detrere el vide l'urneart, mo sense succes, haxau torturar il Sonio Est sin de totes modes. De mezzenoit halu i l'angeli brau, emenau ells ur la mar a Neapel. Kau aizel curdavus els mauns de l'imperatur et tiran Maximian. Let's haxau torturar il Sonio in sin horribles modes, en tocan tir sia mort, els duus dat cercladur traiacien a treis.